devo andare a vari quindi sto facendo la valigia adesso perché non ho tempo di farla più tardi cade sempre così io per fare le valigie ci metto due o tre giorni quindi la faccio proprio a pezzi non riesco a organizzarmi non ho questo dono purtroppo questi occhiali non sono miei li ho trovati in giro però niente trovo che mi stiano bene quindi ritengo venite con me amici che mi vedrete costruire lo scatolone fabbricone innanzitutto tu la devi smettere perché niente la devi smettere basta a presto Musica Alla fine siamo arrivati, parlo piano per non farmi sentire e siamo in un posto storico Che ha tre villette e io e il mio ragazzo con altri due ce ne siamo presi una E adesso vi faccio fare un giro piccolo Cucina, salotto, corridoio delle camere Con qui una, un bagno, che non so dove è la luce Alla fine servivano tre colpi per accendere il bagno Musica, water, vide, doccia E questa è la camera dove staremo io e il mio ragazzo Ma quando si, diciamo, libereranno le altre Vi farò vedere quello che posso Musica 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 Grazie a tutti. 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 Andiamo a mangiare i dolcini al mac. Grazie a tutti. 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 Devo andare a casa a mettere in carica la videocamera che scarica perché anche oggi forse si va a surbo in sala giochi e quindi se voglio filmare devo mettere in carica. Questo è il sound vortex e io non ciò. Andiamo a giocare. Andiamo a giocare. Andiamo a giocare. Si, sì, ci sono riuscita. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. , , , , , , , ,,,,, come... Grazie a tutti